È uscito il nuovo calendario degli eventi primaverili delle 5 terre della Val Gandino è un calendario che ha un pretesto per ricordare come le 5 terre stanno lavorando e funzionando bene grazie appunto alla sinergia di tutte le persone che si impegnano. Sicuramente l'uscita del nuovo calendario primavera delle 5 terre della Val Gandino che credo sia ovvio ricordare rappresentano i comuni di Gandino, Leffe, Cazzano, Sant'Andrea, Peia e Casnigo e la conferma del processo avviato in questi tre anni dal 2009 quando le 5 terre sono di fatto nate attraverso il distretto diffuso del commercio. Sicuramente è una tappa importante perché nel 2012 si è di fatto concluso il periodo iniziale diciamo di incubazione delle 5 terre sostenuto da quello che è il distretto del commercio e quindi dalla regione Lombardia e anche dalla Camera di Commercio. Le 5 terre devono ora camminare con i propri mezzi, con le proprie gambe e soprattutto con i propri finanziamenti. è importante la scelta che i 5 comuni hanno fatto di sostenere con fondi di bilancio la promozione complessiva del territorio che quindi passa essenzialmente attraverso gli eventi attraverso guide turistiche che poi si svilupperanno più avanti o altre iniziative ricordiamo per esempio l'album delle figurine e lo fanno soprattutto prendosi a sinergie anche con il territorio con il mondo reale dei commercianti come è il caso del programma eventi. Un programma che comprende gli eventi che vanno da marzo sino a giugno di tutti i 5 comuni della Val Gandino ed è stato sostenuto dalla volontà delle 5 terre di continuare nella programmazione e dal sostegno economico assolutamente indifferibile di un pool di sponsor che si sono coalizzati per consentire di sostenere i costi di stampa. Questo è un segnale molto importante che si aggiunge anche alla soddisfazione recente di alcune settimane fa della certificazione di carattere europeo, la certificazione Tocema Europe che il distretto delle 5 terre ha ottenuto insieme ad altri 6 distretti in Lombardia dei quali 4 in Bergamasca che sono evidentemente anche i più importanti a dirlo e il fatto che insieme a Gandino ci sono San Pellegrino, Terme, Bergamo, Città e Treviglio quindi i distretti per così dire effettivamente che coprono anche un territorio maggiore. Questo conferma la bontà del percorso di questi tre anni e conferma anche la volontà dei comuni di confermare nonostante come detto l'esorimento del finanziamento regionale l'organizzazione di alcuni degli eventi nati proprio in questi anni sull'onda delle 5 terre è caso per esempio il prossimo aprile della Sagra della Cicoria che si svolgerà addirittura per 4 giorni rispetto alla sola giornata dello scorso anno a Cazzano ma è stato il caso anche della festa della donna a Peia dove si sono uniti tutti i commercianti del paese o ancora lo saranno le iniziative di Gandino la prossima sicuramente importante è quella del 18 marzo con la fiera di San Giuseppe o ancora per ricordare alle F le iniziative legate all'anenogastronomia legate alle iniziative dell'impara l'arte e ancora evidentemente non possiamo dimenticare Peia dove in questi anni è nata e continuerà la Sagra del Cinghiale a Casnigo le celebrazioni e le iniziative di questo periodo saranno fra l'altro raggruppate sotto quella che è il ciclo della primavera casnighese caratterizzata in particolare dal ricordo dei 400 anni di conclusione dei lavori del santuario della Santissima Trinità da un ricco calendario di iniziative anche legate ai pittori baschenis che sono coloro che hanno affrescato l'interno della Trinità creando quella che è la cosiddetta Sistina della Bergamasca grazie grazie grazie